Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, ha dichiarato che circa 3 milioni di bambini e bambine in Ucraina e oltre 2,2 milioni di bambini nei paesi ospitanti hanno urgente bisogno di aiuti umanitari. A causa del conflitto russo-ucraino, ormai nato da quasi 200 giorni infatti, mancano acqua e beni di prima necessità in alcune aree del paese, mentre stiamo assistendo ad un ritorno di malattie come il morbillo, la polio, la difterite, ha spiegato il portavoce della Ollus, concludendo che serve maggior impegno o la situazione con l'arrivo dell'inverno peggiorerà drasticamente.